E' tornata a colpire l'altra notte la banda di malviventi che ormai da diverse settimane si è resa protagonista di numerosi furti ai danni di proprietari di BMW. La tecnica sembra essere sempre la stessa, così come il bottino. A essere state sottratte sono sempre parti precise e costose delle automobili, come per esempio il volante o il computer di bordo. Diversi colpi messi a segno dalla banda che già lo scorso settembre aveva iniziato la sua attività nel quartiere di Muraglia, in via Kennedy. Il più recente invece è accaduto in via Respighi, al termine del quale però i due ladri seriali sono stati identificati e arrestati dalla polizia mentre tentavano la fuga. Un lavoro minuzioso e studiato nel dettaglio quello dei malviventi, come racconta la vittima di quest'ultimo furto. Alle 6 siamo stati svegliati dagli agenti della Digos che ci hanno comunicato che la macchina era stata presa di mira, ovviamente sono risaliti a chi era il proprietario, ovvero la società nel mio caso del negozio, dove era il mio domicilio e ci hanno avvisato di questo. Ero a conoscenza che sarebbe avvenuto, nel senso me lo aspettavo, tutte le BMW venivano prese di mira, mancava la mia e poche altre. Abbiamo constatato il danno, il danno è stato chiaramente ingente perché dal volante a tutto il computer di bordo, il navigatore e i vari joystick per manipolare le varie opzioni dell'auto, passando per tutta la console centrale dove è rimasto solo il cambio. E nulla, dopodiché io sono andato subito a sporgere denunce in questura e loro mi hanno detto che sono stati presi, subito insomma fatti avvenuti e da lì poi mi sono recato dal concessionario per portare avanti le pratiche anche dal punto di vista del risarcimento. E non si limita alle componenti auto il fenomeno dei furti in città. Protagonista di un raggiro che ha portato alla scomparsa del cellulare di una dipendente è stato il titolare di un'agenzia immobiliare situata in piazzale della Libertà. Erano più o meno le 6 quando un cliente è entrato all'interno dei nostri uffici chiedendo delle informazioni generiche su una locazione e sbiascicando un po' un cattivo italiano e parlando in inglese ci ha chiesto delle informazioni per un affitto. Nel frattempo si è avvicinato alla scrivania della mia collega e in maniera proprio fulminea ma da prestigiatore ci ha praticamente sottratto il cellulare. Non appena ci siamo accorti lui già naturalmente era andato via e ci ha proprio fregato sotto gli occhi ma con veramente una grande capacità e scaltrezza. Questa mattina tra l'altro avendolo condiviso sui social network di Pesaro, diciamo sulla pagina dei furti per condividere questa esperienza con qualcuno che magari potrebbe capitare la stessa cosa mi hanno già contattato un paio di amici e anche colleghi per esempio un collega di un'agenzia qui del centro Benelli che praticamente ha subito la stessa cosa. Questo qui entra in maniera fulminea e praticamente facendoti le domande con un foglio in mano nel mostrarti questo foglio da sotto con l'altra ti ha rubato il cellulare. Denuncia è già stata sporta? Sì, questa mattina dai carabinieri il mio collega è già andato, noi dobbiamo andare perché ci hanno comunicato di dare i numeri identificativi del cellulare al fine di poter forse ritrovarlo, insomma di fare delle ricerche più approfondite. Movimento Ancafano dove grazie a pattugliamenti e controlli straordinari svolti dalla Polizia di Stato è stato rintracciato e tratto in arresto un uomo di origine campana su cui pendeva una condanna di 10 anni di reclusione. L'uomo, oltre alla condanna di partecipazione ad un'associazione a delinquere, si è reso responsabile di omicidio colposo dopo aver violato le norme della circolazione stradale ed essersi reso protagonista di un incidente verificato sia a Firenze nel 2012 e della successiva fuga. Tante invece le denunce raccolte dalla Polizia Fanese in seguito alle indagini condotte per contrastare furti ai cittadini, che hanno permesso agli agenti di risalire ad un ragazzo di 19 anni di nazionalità moldava, il quale è stato trovato in possesso di un cellulare ritenuto provento di furto consumato in un'autovettura. Il giovane è stato denunciato con l'accusa di aver effettuato altri colpi, sempre in orario notturno, in diversi esercizi commerciali. Stessa sorte per una donna di etnia Rom, fermata in località Sant'Orso, col sospetto che stesse pianificando dei furti. Gli agenti hanno poi accertato che la stessa si è resa protagonista di un colpo in una gioielleria di macerata, dove sono stati trafugati gioielli per un valore di 3.000 euro. Denunciati per furto aggravato anche due soggetti, notati dagli agenti di polizia all'interno di un bar in località Porto in orari di chiusura al pubblico, i quali, con la complicità della titolare dell'esercizio e del suo convivente, sottraevano il denaro contenuto nelle slot machine per un valore complessivo di 15.000 euro. Infine, le tempestive indagini svolte dagli agenti del commissariato di Fano hanno permesso di rintracciare l'autrice di un ennesimo colpo avvenuto questa volta in una farmacia del centro storico. 600 euro il valore dei prodotti cosmetici sottratti all'esercizio e per la donna l'aggravante è di aver indotto al furto anche la figlia minorenne di 14 anni.